Rimaniamo sempre a San Donato, dove mercoledì prossimo, 26 febbraio alle 17.30, presso il Centro Culturale Leonardo da Vinci, si terrà un seminario di formazione per aspiranti imprenditori, sulle modalità quindi di fare impresa partendo anche solo da un'idea. Il seminario è organizzato da Confapi, in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e il Ministero dello Sviluppo Economico.